Ancora una volta ciao ragazzi bentornati su minecraft ftb rpg immersion super pack dei cazzi ma abbiamo scavato come dei putridomini e ci siamo riusciti a fare qualche altro pezzo di armatura di realmeet per cipapewa siamo riusciti a raccattare un altro po' di realmeet da mettere qua dentro bla 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 e cavoli cavoli e ciccepevole pavle Quello che abbiamo fatto anche ed è molto importante è che siamo riusciti perlomeno qualcuno di noi l'ha fatto non tutti noi abbiamo sfruttato miniforza e frenchi per fare un'altra spada degli slime e gli ingredienti necessari per creare le ancore che erano quelle armi a lungo raggio che ci avevate consigliato voi Mo come si faceva sta ancora che io non me lo ricordo mi sembra che bisognava creare 9 no 3 quanti cazzo erano frenchi 2 4 6 se ne vuoi fare 3 6 di quelli pure aquatic pellet Ok ne ho fatti 6 ce ne stava anche qualcun altro forse vabbè poi le metti come bastoncini quando fai un piccone si e li metti sopra si Semicerchio e le cose a semicerchio non funziona tipo un piccone però con altri due cosi al centro e non va che cacchio mi hai detto allora vediamo C'è pure aquatic li devi mettere nella fornace Ah ok bisogna cuocerli? Sì Tutti? Sì Ok ne ho 7 va bene cuocio 7 ok allora seconda cosa che faremo appena finito qua perché abbiamo una lista di obiettivi E andare a esplorare retta caverna che abbiamo scoperto siamo a profondità 20 19 15 insomma è abbastanza sotto da trovare qualcosa di prezioso perché ci servono Serve da uccidere dei mostri e da trovare dei minerali rari per poter creare i primi boss e andarli ad affrontare insomma perché servono in particolare per arrivare alle prime dimensioni extra che alla fine sono l'obiettivo Come arriva? Mappa mod del cazzo Da lorda mod Da lorda questa mod Ci abbiamo qua insieme a me e oltre Frankie ci abbiamo Cipapeua e Miniforza del cazzo Che non si sa come mai ci siamo tutti quanti perché di solito quando c'è Miniforza manca Cipapeua quando c'è Cipapeua manca Miniforza Sarete mica la stessa persona? Sì No è il mio figlio Guarda non parlano insieme mai Hai visto? Mo si scoprono degli altarini segreti Miniforza Frankie mi fai un piccone di ferro Ma Miniforza non parla proprio com'è? Non ho ferro Cipapeua tu mi stai dicendo che dopo tutto quello che hai fatto non hai un piccone di ferro No l'ho perso prima L'ho perso L'ho perso prima Aspetta ne ho uno Io che si è spaccato Occhio a te Allora No non ne ho Sopre Eeeh Come Mo Mo Come era lo schema? Lo schema? Sempre come prima Non me lo ricordo Due di questi Sì E poi intorno Oh Fatta Una Vai Poi due ne possiamo fare E tre ne possiamo fare Qui è Tre Bowed Anchor Quindi una per Frankie Una per me E una per Cipapeua Top Miniforza ovviamente niente Proviamola Perché è un invece No è sì è bello Funziona fammela provare prima C'è l'esco E' vero Fa malissimo Che muore Non l'ho ammazzata Chi lo uccide gli faccio il culo Perché io non devo tipizzare nessuno Ma farò le palline Ah faccio quattro Ti killo Con tutta l'armatura Allora Ricapitoliamo Abbiamo un'arma ranged Abbiamo una spada Chi è che di noi Ci può fare Non hai una spada Vero? No c'ho questa Quella vabbè Ok Abbiamo abbastanza roba Secondo me Per Per ammazzare qualcosa A questo punto Io prendo sto ferro Miniforza hai un'arma ranged Tu no? Eh ho un arco Sì sì Ok hai qualche freccia? Ah ah c'ha l'arco Sì sì me ne sono preoccupato Ma papà Ne sono procurate tanto Vabbè questo po' di ferro qua lo possiamo pure lasciare Dai Fammi un piccone nuovo L'ho finito Ancora Fa piccone nuovo Stembecile Mi hai dato uno quasi finito Franky Lo so Era quello mio Ti è un piccone Due piccone Prendete Due piccone Allora andiamo Andiamo Ci manca da esplorare tutta sta parte di caverna qua Eeeh Andiamo Qualcosa troveremo Allora Molto importante tenere abbastanza illuminato Se no Ci sta già del loro Loro serve a qualcosa in questa morte Oddio attenzione Oh 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 Aiuto 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 No no il creeper però imbecilli Oh il morto Aia Cazzo L'abbiamo achillato Madonna Voi non avete Mi ha tolto tutta la vita Io ho visto Ti ho salvato io Dimmi grazie Non ho mai salvato tu L'ho attaccato io Non ce l'aveva mica con me Al massimo ti ho salvato io No Ti ho salvato io a te No Io lo sperate Uno diWow Uff che brutta avventura Allora Quello che ci serve Tenete gli occhi aperti Sono altri minerali Tipo azzurri però Tipo lapislazuri Oh quanto ferro Vabbè il ferro ormai sinceramente non è che ci serve Gli shuriken Vabbè in fase Sì gli shuriken sono buoni Però queste bowhead anchor sono veramente cattoliche Stingono indietro hai visto Sì altro ferro Allora Qua ci stanno altri smeraldi Ma come è che è raro Siamo a livello parecchio basso siamo sul 15 Ma dovremmo essere abbastanza bassi da trovare Gli elementi nuovi Ma non è che sta la lava qua Non lo so qua ci sta altro oro io lo prendo Oh ho trovato una roba tipo smeraldo verde Sarà mica questo che ci serviva Oh che cazzo è Oh cos'è quel minerale Due di arlemite Arlemite questa è buona So che ci serve Oh c'è una cosa blu Pure Oh che culo Quella è C'è un'altra arlemite Credo che sia un'altra arlemite C'è un'altra arlemite C'è un'altra arlemite C'è un'altra arlemite Oh cazzo No No sta scappando il rupee L'ho preso L'ho preso L'ho preso L'ho preso L'ho preso L'ho preso Vabbè qualcuno di voi Oddio Che culo Grazie acqua che esisti Qualcuno vuol chiudere sta acqua di merda Si che mi ha appena salvato la vita Bravo cretino Mo'è peggio Dai vasi dalle palle va Ho fatto un piccolo errore Allora Eccolo L'ho preso io Dove stai? Hai preso l'altro rupee? Si Questo è perchè stai sempre attaccato al culo Dammi sto rupee Vabbè Stiamo calmi tutti quanti Franky fai al volo una fornace E sciogliamo sta roba qua Dopodichè Da quanto ne so io Miniforza ti ho detto prima che iniziassimo a registrare Di fare una lista delle cose che dovevamo fare Ci stava all'inizio se ti ricordi Una parte da fare nel nether Ti ricordi? Allora Prendere nel nether Neterite ore Ce ne serve esattamente poco un po' non tanta Ma che cazzo di lista è? Ma che cazzo di lista è? Chi te l'ha dettata? Precisa l'ha scritto Come l'hai detto tu Che schi Allora ascoltam bene Prendi sto piccone di diamante E scava l'ossidiana Ci servono i blocchi per far portare Vai 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 Ci papeua Vieni ascolta me Ti fa Franky Te Ah ma ce lo puoi fare un tavolo da lavoro veloce Sta qua Sta qua Ah ok grazie Allora Ci papeua tieni Ti faccio piccone di diamante Tieni Ma robicone di diamante Com'è bene Vai aiutami di forza Prendi anche tu un po' d'ossidiana Mo io invece faccio Sciolgo questi lingotti Facciamo bene Questo che ci manca Oh un ciclope L'ossidiana cretino Un ciclope Lai ho un ciclope Ci papeua l'ossidiana E non da arrabbiare Eh ma che cazzo t'ho detto io Ammazziamolo Vieni vieni ammazziamo Aspetta No aspetta Adesso aspetta Secondo te io per cosa t'ho dato il piccone di diamante Vuoi rifilartelo nel culo Eh No perché mi vuoi bene Sai benissimo che ti odio Lo sai benissimo Aiuto Aiuto Ho attaccato il ciclope Ma come vai Ti salvo io Mi sto facendo il culo C'è anche un altro Rotatik Oh vai Addio Chi è il coglione Fermi Madonna Pezzo di merda Oh Arriva il Rotatik Oh è morto Un diamante Giva i diamanti Che palle Con sta cosa che abbiamo appena messo dell'inventario Però non c'è più gusto Quanto ti serve Leone Eh Mini forza E te dovete prenderne Quanti sono 1, 2, 3, 4, 4 Eh occhio che c'è la lava là sotto 5 Fatta hai dito tu Ti voglio tanto bene 5 No sono di più Vabbè sì No 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 10 Precisi Ok 10 dovete prenderne Quanti ne avete in totale Vabbè non guardate ogni 2 secondi Te l'ho detto che c'è la lava Vabbè basta che ci arrivate insomma Questa è per me A quanto stai mini sozza Zero Oh oh che cazzo è successo Madonna mi sono spaventato Vabbè intorno a noi Mi era sembrato poco fa D'aver visto della Ah me ne cadono a Frenky quanti diamanti hai 2 Merda Perché? Volevo farmi un altro piccone Ci vapeva poi me lo restituisci Ti do quello di real meat Che cazzo è che mi ha dato 4 di cuori Mi ha levato 4 No no Noi prendi prendi qua lion Che cosa? Ti do di rupire Ti do di rupire Ti do di rupire L'era il meat Ah Arlemite Ne hai presi? Ti do di rupire il pico Di real meat Ah no me lo posso fare Lava sa fare di real meat Ma è buono Zitti Ma è buono Abbastanza Ma non è migliore di quello di diamante No forse è meglio È meglio? No non credo Eh sono riuscito a fare l'ossidiana È un po' più veloce Oh è vero è buono Aspetta iniziamo insieme Iniziamo contemporaneamente Ci vapeva Al mio 3 Mi iniziamo a scavare Vai Uno Due Tre Vai Eh va bene Come ho iniziato un po' Vediamo Io ho iniziato un po' più tardi Enrico Ah E comunque lo rompe prima Cazzo è meglio di quello di diamante Però forse dura di meno Sì Vabbè a quanti blocchi siete arrivati? Mi sa che ne abbiamo Io ne ho due Come cazzo hai fatto ad averne solo due imbecili? E sono accaduti tutti sulla lava Ma non potevi scavare solo Cioè aspetta Franky Sono imbecille Io gli ho dato il piccolo Dammi il piccolo di diamante Attento Ma baschete No questo non è quello di diamante Lurido Turpe Essere orrendo Ristituito Ah ecco Ecco Ma sei ossidiana Ma che prendi per il culo Ma guarda io con cattiveria cosa faccio Miniforza Guarda Con questo piccolo di diamante Lo butto nella la Piuttosto che darlo a te Piuttosto Schifoso Sì ho impiazzato un blocco Vabbè basta Quanti cazzo ne state prendendo Basta Franky è stato epico Ha preso Ha preso il blocco di ostidiano E poi l'ha ripiazzato Forte Dai andiamocene Allora Noi dobbiamo andare nel nether adesso Quindi venite Venite Andiamo nel nether Che bello Siete deficienti Venite venite Torniamo indietro Perché c'è un pezzetto di caverna Che non abbiamo esplorato Quindi prima lo andiamo a guardare Poi Oddio Lo zoom Fuori Due colpi Un pipistrello Poi Dopo aver fatto Ecco questo era il pezzo di caverna Batman Ah Ho un cane di caverna Vai ammassa Spara Porca puttana cane di caverna Un altro Ahia Ah si è dietro dietro Cane di caverna Cane di caverna Un creeper di caverna Ho un altro creeper Oh Oh un mosso strano Che cazzo è Vieni Vieni veloce Dov'è dove è Qua 250 c'ha di vita Ma qua chi cazzo Dove Toglietevi Spara Ma non lo vedo È un breggiato È un cane Quanto ha di Ah si questo è buonissimo Ahia Sei un coglione Chi m'ha preso Chi è dietro Non mi toccate Non mi toccate C'ho due di vita Non mi ita Chi è il coglione Ma vabbè Stanno sparando Oh vabbè Cosa c'è Ok L'ho preso Ha dato Doveva dare Non ha dato nulla Bellissimo Bello Forte Non ha dato un cazzo Proprio Ma Che prego Per il cuo Ottimo Come mai non ha dato niente Eh Te roccati Mostro di merda Vabbè sentite Venite di qua Il portale ce lo creiamo qua Ce ne frega niente Oh mio dio C'è della lava Vabbè Croccolo Venite va Venite venite Create il portale qui Qui Eh createlo bene però Createlo bene Faccio un po' di spazio Io qua Dai forse Pazziate Io faccio la La vedetta Dai create Create veloce Su Buttate i blocchi giù Che li metti Veloce Frenky però Ebbè Butta 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 Oh Ho tre Tre Voi due lì sopra Bravo E tre Un altro Che lo metto qua Vai L'accendino Io ho la scheggia Ho anche lo steel Io non c'ho un cacchio A posto A posto Ok vado Accendo Pronti Via Entriamo Siete pronti Andiamo nel nether Perché ci serve un po' di Non mi ricordo che cazzo ci serviva Miniforza Leggi un po' V'ho detto di non parlarci sopra Oh Guarda lì Che cazzo è Quei cosi rossi Che vogliono ammazzare la miniforza Fermo Fermo Madonna Ma io pure lo voglio ammazzare Perché spacca i blocchi Ma è che quelli sono ranged Anche loro Uno per ciascuno Devo ammazzare Ma chi è questo Blood gem Ho trovato Oh ma quello è Lady Gaga Che schifo che sono No sentite A noi ci serve da fare altra roba Però se ci mettiamo a morire Contro sti cosi Non arriviamo Ci serve Come si chiamava miniforza Ah ah si Allora Oh madonna Quanto è veloce sto piccone Guarda un po' Belli Neterite ore Oh che cacchio è Ma mi sa che l'ho trovata Sarà mica questa Oh qua un altro No non è questa Ma cosa Frank guarda Sì neterite ore Oh perfetto Dai prendine un po' Rieccoci tornati Allora Novità Cosa abbiamo fatto Abbiamo raccattato un po' Di questi cazzo Di corrupted shard Dal Dai mostri Uccidendo i mostri Nelle caverne Un po' ce li avevamo già E adesso abbiamo Abbastanza Schifezze Per creare L'oggetto necessario Richiesto E importantissimo Per far spawnare Il primo boss Quale boss? È molto brutto Però è indispensabile Farlo spawnare Mo Ho messo a cucinare Prima Qui I lingotti Di neterite Mo Con un lingotto Di rupi E un lingotto Di harlemite Noi ne abbiamo Due di ciascuno Creiamo una shadow bar Con la shadow bar Più Madonna Non mi ricordo più Un cazzo Non ci dice Ah Il cervello Non mi ricordo più Franky Devi andare a cercare Ah intanto serve un orologio Ci papeva Fai un orologio Del mattino Fai un orologio Franky Cerca Eh Boss Sì Il boss Uncent entity Eccolo qua Vedi un po' cosa serve E mi guidi nella creazione del coso Perché non mi ricordo più come cazzo si faceva Sì Ci papeva fare l' orologio L'hai fatto? L'ho dato pure Grazie Il mysterious clock vuoi fare? Sì Ok Te ne serve Metti l' orologio in mezzo Sì Questo cos'è? Elstone ingot Ce l'abbiamo? Come si fa l'elstone ingot? Dimmi Veloce Shadow bar E netherite chunk E netherite chunk? Ah ok Forse ce l'ho Ok si Ho la netherite chunk Più la shadow bar Esce l'elstone ingot Ok Mo elstone ingot Cosa devo farci? Lo metti sopra l' orologio Sopra l' orologio L' orologio al centro E intorno ai corrupted Ok fatto Mysterious clock Wow Vi sentite pronti a affrontare il boss? Tanto vi buggate Vi voglio È buggato Aspetta Spiegaci Perché io non lo so Qua Cioè dovrebbe essere buggato Non ci dovrebbe attaccare Però c'ha 4.000 di vita Minchia E quanto giù vuole a uccidere uno con 4.000 di vita? Eppure dice che c'ha 16 di attacco Aspetta ma sto tizio vola? No è un ciccione da quanto ne so io Allora fanno spawnare il giù a tutto così Ci mettiamo in tre con la distanza Lo spaviamo Aspetta forse sta laggando il server Sta laggando A me no Sì invece Sì 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 Ok ha smesso Allora andiamo Tra l'altro vorrei far notare una cosa Che la nostra casa è stata deturpata Qua con questa recinzione di merda Da un certo imbecille Qualcuno di voi ha un'idea su chi potrebbe essere questo imbecille? Non lo dite Non lo dite Lo dovranno indovinare nei commenti Chi è stato l'imbecille che ha deturpato casa Ok dai E anche la punizione per l'imbecille dovete indovinare Scrivetela E noi glielo facciamo all'imbecille Allora Andiamo in una zona decente dove possiamo affrontare questo coso Come scendere? Per forza Sì l'ancor ce l'hai anche te Potremmo affrontarlo in acqua Lo facciamo spawnare in acqua Ma che è Cade la roba Allora usciamo da qua Da dove cazzo usciamo? Fallo spawnare là sotto Oh lì 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 Guarda È dall'alto Dove stanno gli alberi? Sta allogando di nuovo mi sa Fermi No no Che è che sta tutto giù Da dove cazzo usciamo? Di qua Ah da qua Da qua Dove stanno gli alberi? Da stai caldo Allora andiamo dove stanno gli alberi Ma un buco gli dobbiamo fare Secondo me è meglio No 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 qua Se è il buco Con moglie lo fa il buco Lo faccio spawnare qua Sì e noi lo facciamo da sopra Ok Vado eh io Siete pronti? Ma che è enorme proprio Tu manco te lo puoi immaginare Vado eh siete pronti? Oddio Oh Cristo Non è così grande come pensate Non è così grande Allora ognuno si metta Oh merda mi guarda Ma scusate una Non dovrebbe attaccarti Ma quanto cazzo di vita c'ha sto stronzo 4 mila vai attaccatelo Ma è troppo Attaccatelo Ma che è una cavalletta? È una cavalletta Oh Cristo Non so se ti attacca Eh si è baggato Oh merda No ok Meglio Zero forza Ci fa proprio Quai a te se lo luti Voglio vedere che cosa dà Vai 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 Allora Buono Ho droppato una send slash Che è un'arma Più Ehm Ah sei divine shard I sei divine shard 15 diamanti Sì sì col cazzo I divine shard Servono A quanto ne so io Tra l'altro ci papevo A toi ti do la mia spada spaccata Oh possiamo Oh la divina rocca Ehm è sparita Ehm è sparita Sparita Perché ne bastano sei No Eh magari Dobbiamo farmare un po' questo boss Quindi diciamo che noi lo riammazzeremo Che cazzo è quello? Uno zombie vestito Che cazzo? Un day adminer Che cacchio ha questo qua è brutto Oh Ho ammazzato un frost Va bene In ogni caso noi dovremo farmare il boss Ammazzarlo un altro paio di volte Sei morto? Sì Ehm E poi saremo pronti per entrare nella prima dimensione Quindi per questo episodio immagino che sia tutto E vi auguriamo una buona giornata Se la giornata di oggi dovesse essere finita Mentre guardate questo video Guardate quello di domani Muori Ci papeva di merda Quello di domani Domani No 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 Lion ci papeva e Frankie Out Ciao